Sblocca Italia ancora al centro del ciclone, ancora allarme per l'Abruzzo. Da quando il decreto è stato ufficializzato, nonostante appelli, manifestazioni e interpellanze parlamentari, nessuno stop da parte del governo. I 5 Stelle proseguono una battaglia proprio incentrata su quei punti presenti nel decreto che di fatto tolgono potere decisionale alle amministrazioni locali, creando di fatto una delocalizzazione che fa capo al Premier Matteo Renzi. E infatti quello che ci spaventa è proprio questo, nel senso che non vorremmo che le posizioni pubbliche prese dal governatore D'Alfonso, dal sindaco Alessandrini, fossero prettamente strumentali perché poi tanto sanno che qui non si decide più niente, si decide tutto a livello nazionale e ci penserà Renzi a fare le cose che bisogna fare e loro hanno anche la possibilità, tra le altre cose, di prendere una posizione pubblica favorevole. Quindi è importante che invece ci siano degli atti concreti a difesa del nostro territorio. Ancora sconosciute poi le ragioni che rendono gli idrocarburi una risorsa per il nostro Paese, vista l'eseguità della loro presenza e la nuova economia orientata sulle energie rinnovabili. Persino Rockefeller e tantissimi fondi monetari importantissimi stanno uscendo del petrolio, stanno levando tutti gli investimenti che hanno nel petrolio per portarli sulle energie alternative. Questo perché non solo per una questione morale, ma per una questione proprio prettamente economica. Cioè loro quando si muove questa gente si muove semplicemente per un discorso economico e hanno capito che questa è una strada che oramai non porta più da nessuna parte.